Burloni, oggi su Minecraft ci sfideremo con l'arma da un milione contro l'arma più bassa da mille euro In realtà ci sono anche altre due armi, però voglio un attimino capire che cosa faremo Le specie saremo io e Nico contro Buddy e Loco, come al solito Scegliete voi l'arma che volete Marci, Marci, io e Buddy facciamo l'arma più scarsa No, no, ma parla per stai Vabbè Sai perché? Sì, sicuro? Sai perché Marci? Sì Perché vi battiamo anche con quella Stavo dicendo che, ok, le armi sono comunque tutte forti Anche quella da mille euro solamente Quella da mille euro non avrà praticamente caricatori E quindi... Lo vedo Niente Loco sei un po' un pirletto Buddy, hai già vinto Buddy Ho preso la minica Nico tu prendi le cose Sì, sì, sta venendo i semi Dammi le munizioni Ma io volevo lanciare i semi Tu lanciarci i semi Sì, 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 si lancia quelli Allora, noi abbiamo otto stack di munizioni Voi avete otto munizioni Sì, però possiamo prendere l'Ossidiana L'Hander per le polvere di vento Voi potete prendere l'Ossidiana L'Hander per le tutto Comunque, direi che possiamo esattamente iniziare In questo esatto momento K Nico, c'è una cosa prima Cos'hai visto? Buddy, cosa stai facendo? Ok, arrivo Buddy, è inutile Buddy Io ti consiglio una cosa, Nico Niente full ferro, niente Prendi solo il ferro essenziale E andiamo direttamente Ok, ok Guarda questa cosa, Buddy Ok, diamo subito Allora, così Così Ok, ho già il piccone Io tu ce l'hai già il piccone Vado direttamente in Mirabelle Un pochettino di ferro, non troppo Ok Prendo anche direttamente questo Subito, subito Io ho uscito qualcuno per il cibo Sì, grazie Ma non è che per caso In questa zona c'è tipo una cavernuccia No, eh No Invece sì Invece sì Guarda cosa c'è qui Vabbè, ti vai a fare le cose tue Perché è una cosa mia Andate andate tranquilli Vediamo se è una caverna No, non era proprio Non era proprio una caverna Questa però effettivamente Ci sono rimasto un pochettino male Devo essere sincero Comunque mi faccio il piccone E scendo Allora ho la flint Ho la flint Cioè nel senso Se ci muoviamo Andiamo a usare il loro Ti prego muoviti subito Non hanno la flint Però E tu c'hai la serie Sì, sì, sì Ce l'ho qua Sì, ce l'ho subito Il primo colpo Accendati Velocissimo Arrivo Velocissimo Veloce Velocissimo Cioè la stessa Mi sta seguendo Eh no Però tu le case E la minica Ti ricordo Mori pollo Ok Veloce Nico Cosa stai aspettando Ma chi se ne frega Il ferro Diamine Io lo accendo Io a portare Loro Praticamente Ma ti rendi conto Uccidili poi Ok Ok Sto entrando Sono stato il loro portale Sono stato il loro portale Mamma mia Nico Vediamo se è un buon Nether Non è un buon Anzi è un Nether Pessimo Porca miseria Nico Sono in ansia Perché secondo me Loro non avevano 500.000 a testa Avevano Un milione A testa Casino Ok Eh sì Ma è giusto Così Avevamo un milione Anche noi Quindi tecnicamente Loro saranno Subito nel land Vuoi vedere? Speriamo di no Allora noi che coordinate siamo A meno 115 È un bel casino qua È un bel casino Secondo me qua non c'è niente Però qua ci sono gli Enderman Non riusciamo a ucciderlo con Eh non lo so Suoi proviamo Però non c'è niente Un bridge Non ha blocchi per salire però Ok Speriamo li faccio Ma vai facciamoci blocchi Ma dobbiamo correre come degli animali Dico Mamma mia Dobbiamo correre come degli animali Tu vuoi andare direttamente alla fortezza? Vado io Vado io la fortezza Fai tu bacione per una volta Dai Vado Pronto Urca Buddy è morto Teccato Prova andare oltre Va bene Per una volta Perché tanto se ne vado un altro quadrante è il stesso Quindi posso andare anche un po' oltre e via Ok No c'è un po' troppa lava C'è un po' troppi Non po' troppa lava Ma perché è morto Buddy? Eh o sarà accaduto Dai ma son già nel Land loro Nico io sono ancora qui che giro Girovago Girovago Ma come è successo da Silverfish? Ma non lo so Ma è stupido Che praticamente non si potrebbe morire Però vabbè Nel senso Ma vabbè comunque va bene così Cioè moriamo con calma Nel senso Cioè Va bene Uh sono nella lava Nico c'è un problema da me C'è un grande problema Aiuto Ho trovato il Lo schifo ho trovato Lo schifo ho trovato Ho trovato sto bioma brutti Io lo odio sto bioma Fortezza niente? Sono a meno 300 300 Nico non c'è niente Fortezza Segni di fortezza Nullo Niente che faccio Lo do dritto? Eh vai dritto Non so Se trovo il bassone Te lì ho quitto eh Ma come? Se trovo il bassone è quitto No dai non quittare su Se trovo il bassone è quitto oggi No Se trovo il bassone è quitto te lo dico No non farlo Ti prego Fortezza Per favore Eh qui come passa adesso Ok posso passare in realtà Ok non vedo niente Il problema è tornare indietro Nico Facciamo un altro portale Scambio le cose No Tu non so come tu possa fare Però lo facciamo Bravo Hai già capito tutto Meno 300 400 Niente Mi sa che non c'è niente In questa zona Tecnicamente però L'ultima volta Avevo trovato il bassone A meno 400 Ho trovato la fortezza Ok Ho trovato la fortezza Che fortuna Vabbè non siamo tanto distanti In realtà Non è distantissimo Perché il portale iniziale Era abbastanza alto Ok 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 Adesso io devo cercare Di ammazzare più blaze possibile Nel tempo possibile Bravissimo 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 Noi già sei Alla minicamp pronta eh Minicamp prontissima Nel ender del coso Nello stronghold Eh lo so Lo so Lo so Infatti qual è il problema Mangia marci Diaminate Ok Che l'ho ucciso Io sono 9 Ender per Quanto sei tu? Va bene Va bene Io non ho niente Non ho niente Ok Va bene Portavo su di te Che ho uccisi Però no Ok ce l'ho Duffarci Sì sì No Va bene Va bene Recupero vita Un attimo Dai sponate Campioni sponate Dai Dai Ma quanto ci mettono Mamma mia Amico Ci mettiamo 12 anni Ma loro non avranno Le cose apposta Per fare Per fare il portale Eh ma i soldi Ce l'avevano Sì Potenzialmente sì Il problema è che con una pistola Non puoi farci niente Ok Uccise Quanto ne ho? 3 Ne ho 3 Ne ho 3 Ne ho 3 Va bene Eh ma non bastano Di più Di più Eh ho capito Va di più Ho capito Qua Cosa ce ne servono? 4 esattamente Di più Di più Di più Ok ci mi ha droppata Ok Ne ho 4 Alte 3 Dai Sponate Ma come sono Ma questi Ho fatto Sto Adesso Oddio Nico Però il portale è vicino Se ci sono arrivati in poco Eh sì Tecnicamente si ha ragione Però devono spawnare i blazer Sai Se non spawnare i blazer Ho un po' Un po' Da track Lo sai Arriveranno Dai Dai ma badia Tra i diamanti Io c'ho 6 blazer Ti prego Ti prego Eccolo qua Dimmi che ci me la da Beh 6 possono bastare comunque Eh sì ho capito Potrebbero bastare E se non bastano Aspettiamo l'ultimo Dai me lo sento Droppa me la però ti prego Vengo verso di te O vieni tu verso di me O vieni Vieni tu verso di me E facciamo il portale E dimmi le coordinate Io sono a meno 300-600 Potrebbe essere un oceanico Potrebbe essere un oceanico Ho una barca Vai 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 di qua Di qua Di qua Di qua Metti Destra 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 Dritto 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 Ok siamo a coordinate Meno 2100 4700 Ok Non so se potrebbe essere in zona Io nel dubbio guardo bene Bene Sciutto il mare Guarda anche tu Sì sì guarda sotto Lì c'è un canyon Qualcosa di quadrato E lì c'è un canyon Guarda bene lì Però non mi sembra che ci sia nulla Mannaggia Non c'è niente No non c'è niente 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 Dove lanciare un altro Per vedere se è su terraferma o su mare Ma siamo troppo vicini qua Secondo me E allora andiamo avanti Sai perché siamo fortunati? Perché questa è una speed Non è una caccia all'uomo E noi in teoria Non dobbiamo tornare Non dobbiamo tornare Nello stesso portale In cui siamo entrati E la cosa bella Sai qual è È che loro adesso Si stanno farmando probabilmente Le enderpearl Perché loro probabilmente Aspetteranno noi Ok E noi li freghiamo Perché questo è un altro portale E noi li freghiamo Esatto Lancio di nuovo Io sto continuando a lanciare Non ciò di fare Il coso dell'otto Sì 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 Fai bene Ti seguo Vamos Dove è andata? È andata sotto È andata sotto È andata sotto Ho trovato Veloce 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 Dai Ma da dove cavolo Sei passato Sono qua Porca di quella miseria Sono qui Sono qui Scusi Ok ho portato anche Ma ancora Tiparsi Ma che amici Se ti chiami Loco E chi se ne frega Ok The end Non ho un ender Per le basse Mi disse C'è un per te Non ce l'ho Vabbè tranquillo Io ho il mio amico Loco Sai che dobbiamo Spaccare Vero I Bandevo Slein Bailoco Tu lo sai Vero che Devono spaccare Mi sa che loro Stanno provando Le pistole Mi sa che loro Stanno cercando Di ammazzarsi Pur di arrivare Qui da noi In qualche modo Dico mancano Solo quelli Lì sopra Ma non riesco A spaccarli Comunque Mi si è muoverà Un po' In giro Da parte vostra Dovevate affrontarci E' una speedra Non era una caccia All'uomo Voi siete andati Mi avete fatto Per il portale Del nether Dall'inizio Ho usato quello Io non l'ho capito Quello Ah è stato Batti Ma no Come ho detto Poi non ci andiamo più Io l'ho da ciotolino Ma voi avete Vi siete resi? Eh non posso Montare hand No Sinello Salvami Ah non ce ne fate Abbastanza Ridicoli Ridicoli Io non ho parole Io sparo al drago Non li facciamo tanto male Ma perché non sta soffrendo? No li facciamo Dando ma poco Ma perché Devi da tutte le altre munizioni Che mi ti siete venuti Eh Da me Che da me C'è la scuola Qua Non so come farlo Stai da taro Vieni Li sto lanciando Prenditi Sono là Non ne ho più Usa di comparsimonia Nico Sono rimasti là Dai che è quasi morto Nico Allora Ma tranquilli Con calma Con calma Come quello che avete fatto voi La calma Non è finito io No 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 Siete stati ingiusti Ma ingiusti cose È morto Addio bellissimi Addio bellissimi No È morto il definello Dall'ender dragon Però Dovevi per farsi tre Se no mi hanno perso No è stato Non sono stato io È stato patty Vittoria Ciao a tutti È stato patty Ciao Un rasinello